1.26 giugno il GIP del Tribunale di Siena, la dottoressa Malavasi, deciderà se archiviare o meno il caso Davide Rossi per il reato di istigazione al suicidio. Lo chiede la Procura della Repubblica di Siena, ma su questa richiesta non pare che ci sia granché da eccepire neppure da parte dei legali della famiglia e della moglie di Davide Rossi e della figlia che al suicidio non hanno mai creduto. Perché? Perché stamani hanno depositato una mole impressionante di ulteriori perizie che vanno sempre nella stessa direzione. Invitare a riaprire le indagini sulla morte di Davide Rossi per approfondire eventuali responsabilità di terzi. Alcuni elementi fondamentali rispetto al materiale che è stato consegnato oggi al momento della scadenza dei termini in vista dell'udienza di lunedì. Una ricostruzione in 3D fatta a cura dei consulenti, dei periti di parte della famiglia, della moglie e della figlia di Davide Rossi che giunge a una conclusione. È il caso di indagare ulteriormente rispetto al fatto che la finestra da dove Davide Rossi è precipitato sia effettivamente quella del suo ufficio o quella del quarto piano, cioè del piano superiore. Un locale dove fra l'altro erano lavori in corso con un residuo di polvere compatibile con quello ritrovato sulle scarpe di Davide Rossi. Secondo elemento forte, è già stata riaperta dalla Procura della Repubblica di Siena che nel novembre del 2015 decise di riaprire questo caso, un procedimento per omissione di soccorso. Rispetto al fatto che Davide Rossi rimase sul selciato di Montepio per circa 40 minuti, agonizzante, ancora vivo, senza intervento di alcuno. Ci fu qualcuno che si avvicinò alla Salma, anzi ancora a Davide Rossi agonizzante sul vicolo di Montepio, si avvicinò e entrò per oltre 5 metri dentro il vicolo di Montepio, non è mai stato cercato, adesso sulla base di ulteriori esami che la Procura di Siena ha affidato alla Polizia Scientifica, si andrà a cercare di capire chi fosse quell'individuo e perché fosse lì. Terzo elemento forte che i periti contestano, i periti di parte, la superperizia affidata dal Procuratore Vitello, la dottoressa Cattano e il colonnello Zavattaro, dice che alcune lesioni ritrovate sul corpo di Davide Rossi non sono compatibili con la caduta. Più avanti la perizia dice che quelle ferite potrebbero essersele autoprocurate Davide Rossi in un momento in cui, dopo essersi buttato, ha tentato di risalire dalla finestra perché si era pentito di suicidarsi. A questo davvero la famiglia, a un Davide Rossi uomo ragno, la famiglia non crederà mai. Avvocato Pirani, oggi avete depositato ulteriori memorie in vista dell'udienza preliminare del 26 giugno. Il GIP dottoressa Malavasi deciderà per l'archiviazione o meno del reato ipotizzato e istigazione al suicidio in merito alla morte di Davide Rossi. Che cosa c'è in queste memorie aggiuntive? Erano delle memorie che si ritenevano necessarie in conseguenza dell'ulteriore attività d'indagine che successivamente alla memoria erano state condotte sulla base anche di sollecitazioni dell'intero collegio difensivo. In particolare abbiamo depositato, per quanto riguarda il collega Goracci, che si scusa di non essere presente, ma dove aveva un impegno professionale a Firenze, e ha depositato un'ulteriore integrazione da parte dell'ingegner Luca Scarselli in merito alla dinamica della caduta. Mentre per quanto riguarda la memoria depositata dal sottoscritto, abbiamo messo a disposizione della procura, o meglio del GIP, la nuvola Lab dei punti, l'ase scanner in 3D. Noi i comuni mortali la chiamiamo ricostruzione in 3D. Ricostruzione in 3D, però che rispetto alle misure, a nostro avviso, calcolate in fase di sopralluogo, ha una precisione chirurgica e sulla base di quello, quindi dovrebbe essere rifatto tutta una serie di attività, in particolare anche al fine di capire e comprendere se è caduto, Davide, o dal terzo o dal quarto piano, perché agli atti, l'abbiamo oggi depositato, o anche una piccola variazione di una misura non dà certezza ancora ad oggi sull'ambito della caduta, se è dal terzo o dal quarto piano. Quindi noi chiediamo che, tra le varie attività, che venga anche nominato un consulente che utilizzi questa nuvola come base di partenza, ritenendo che le misure eseguite in serie di sopralluogo non sono misure certe, sono state misure prese non con la precisione chirurgica di uno scanner laser 3D. Quindi con il 3D voi ipotizzate che la finestra non sia quella dell'ufficio di Davide Rossi, ma quella al piano di sopra? Ipotizziamo che l'accertamento che è stato condotto sul terzo piano forse andrebbe eseguito anche sul quarto piano, ma tutto parte dalla nomina obiettiva di un consulente che noi chiediamo che utilizzi lo strumento che abbiamo fornito e messo a disposizione. Uno strumento che abbiamo fornito, tra l'altro molto costoso, perché comunque è un'attività, è uno strumento di indagine investigativa e difensiva particolarmente complesso e visto che oggi c'è questo strumento chiediamo che venga nominato un consulente che utilizzi questo strumento. Cioè si utilizzi uno strumento più attuale rispetto a uno strumento rudimentale che potrebbe essere ad esempio una canna da pesca utilizzata per calcolare con il filo a piombo l'altezza e la pendenza e la svasatura del muro. Ecco, questa vostra attività, fra l'altro con una molle di consulenti davvero importante su vari aspetti, vostra, dico lei e anche l'avvocato Luca Goraccio ovviamente, con Scarcelli e tutti gli altri consulenti. rispetto all'udienza del 26, dove il GIP, lo ricordiamo, deve decidere se archiviare o meno rispetto a un'ipotesi di reato che non è cambiata, che è sempre istigazione al suicidio. Ma la domanda che mi viene spontanea è che voi non avete nulla in contrario all'archiviazione come istigazione al suicidio del caso Davide Rossi? Noi abbiamo sempre sostenuto un approfondimento di indagine a 360 gradi e questo è quello che noi abbiamo chiesto sin dall'inizio. Alcune ferite, come abbiamo già detto, come abbiamo già evidenziato, per noi non sono compatibili, ma non per noi. D'altronde il dottor Gianaristi da Enorelli, al quale vanno tra l'altro i più sinceri auguri di pronta guarigione per l'incidente ha avuto la scorsa settimana. Stava investito sulle strisce. Stava investito sulle strisce, però fortunatamente si sta riprendendo. Aveva già messo in evidenza la criticità del primo esame autoptico. A parere di questo collegio difensivo, quindi a parere di tutti coloro che hanno lavorato, in particolare i medici legali, e tra l'altro altrimenti non ci sarebbe stata la resumazione del corpo di David, le prime analisi autoptiche dimostravano esattamente una incongruenza rispetto a quella che poteva essere la dinamica. Noi abbiamo sempre sostenuto che David sia stato oggetto di una colluttazione, di un intervento di terzi, perché le ferite questo ci dicono, perché risulta non essere stato dirimente tutto quello che ad oggi abbiamo agli atti. quindi manifestando delle criticità anche sulla consulenza criminodinamica eseguita dai RIS, chiediamo che questo venga accertato. Quindi ad oggi istigazione al suicidio è una cosa su cui noi non abbiamo, diciamo un'ipotesi di reato, su cui noi non abbiamo oggettivamente mai creduto, ma per una semplice ragione, perché abbiamo sempre sostenuto che David è stato oggetto di un'offesa da parte di terzi. Poi se questa offesa abbia, in che modalità abbia inciso, certo è che per noi le evidenze sono queste. Ecco, nel vostro comunicato stampa parlate di criticità rispetto a tutti gli atti ancora sul tavolo, compresa appunto la perizia che fu affidata al dottor Vitello nel novembre del 2015, quando decise di riaprire il caso alla dottoressa Cattaneo e al colonnello Zavattaro. In quella perizia, super perizia, c'è il riconoscimento di quello che dite voi, cioè ci sono ferite e lesioni sulla salma, riesumata, che non sono riconducibili alla caduta. Però in quella perizia si dice anche che quelle ferite e lesioni se le è autoprocurate Davide Rossi perché ha avuto un attimo di ripensamento e mentre si gettava dalla finestra, nel tentare di risalire sul davanzale, si sarebbe procurato quelle lesioni. Ecco, fra le criticità, penso di poter chiedere, questa è quella più grossa che contestate forse, cioè questo atto di pentimento e di risalita. Allora, questa è la criticità più grossa, primo perché abbiamo già depositato relazioni e consulenze in tal senso che nella prima opposizione, quindi nell'ambito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione. La contestiamo per quale motivo? Perché quella ipotesi, tra l'altro, a cui si arriva è una conclusione che parte da delle valutazioni che sono state date come certe quando in realtà erano incerti. Cioè, bisogna fare una chiarezza fondamentale. Io già lo dissi anche a voi che il bicchiere, se è mezzo pieno, si può dire che è mezzo pieno e mezzo vuoto, ma non si può dire che è pieno o vuoto, perché altrimenti si dice qualcosa di non vero. Se noi abbiamo dati incerti, cioè dati che hanno un delta di variabile, non possiamo arrivare a delle conclusioni certe, perché dati incerti abbiamo sempre dei risultati incerti. Questo è un sillogismo giuridico da cui non ci si può nascondere. Quindi quello che noi diciamo è che quelle risultanze, al di là di tutti gli aspetti psicologici analizzati dalla dottoressa De Rinaldis, che manifestano quindi una incompatibilità proprio psicologica a quel gesto, così come descritto nella consulenza e nella relazione Cattaneo-Zavattaro, in realtà ci dice un aspetto fondamentale, che le misure arrivano, in realtà con l'ase scanner, ci dicono che quelle misure sono diverse rispetto a quelle che erano realmente concrete. Quindi da lì si parte che tutta la ricostruzione è non corretta. Una cosa importante, che forse troppo volte è stata sottovalutata, e che in realtà merita di essere approfondita, se abbiamo avuto una riesumazione e quindi una riapertura della cassa per fare determinati accertamenti è perché la dottoressa Cattaneo ha dato un riscontro oggettivamente compatibile con quello che diceva il professor Norelli. Vediamo quello che hanno dato questi accertamenti. La stessa dottoressa Cattaneo ci viene a dire che i risultati non sono dirimenti. Quindi se non è dirimente il risultato ottenuto, resta a monte un dato oggettivo, cioè l'incompatibilità delle ferite facciali e di alcune ferite come quella del polso che ci viene descritto ampiamente nella redazione, che non sono compatibili con una caduta spontanea da parte di Davide Rossi. Andare necessariamente a voler dare una compatibilità di quelle ferite con una sorta di gesto all'uomo ragno, sostanzialmente come l'ha definito lei, mi sembra insomma non giuridicamente corretto. Ecco, riassumendo in sintesi, il 26 giugno il GIP dovrà decidere se archiviare o meno rispetto all'ipotesi di istigazione al suicidio. Voi vi opporrete ad un'eventuale archiviazione o invece non avrete nulla da eccipare su questo e chiederete ulteriori accertamenti? Beh, io e il collega Coracci abbiamo chiesto numerosi accertamenti, sia di escutere persone che possono essere adeguatamente informate sui fatti, abbiamo dato apposita motivazione perché parliamo di soggetti mai sentiti e che secondo noi devono essere escussi per poter avere una completezza di indagine anche perché a nostro parere merita un approfondimento in tal senso. Poi tutta una serie di attività di indagine tecnica, non da ultimo ma riteniamo anche molto importante l'attività tecnica sul video. Noi abbiamo appreso dagli organi mediatici, perché l'abbiamo appreso da quarto grado, da Pierangelo Morizio, che c'era stato il video trasmesso alla scientifica, poi di Roma è stato confermato anche dal dottor Vitello questa mattina, al sottoscritto e al collega Coracci. Noi ci auguriamo che un'attività di indagine seria sul video venga fatta, perché meritano alcuni approfondimenti che già l'ingegner Scarselli aveva messo in evidenza a suo tempo. E poi forse però la novità più eclatante è questa vostra ricostruzione in 3D dell'ambiente della caduta con cui chiedete poi di accertare se invece che dalla finestra del terzo piano la caduta sia venuta dalla finestra del quarto piano. Assolutamente sì, anche perché, ripeto, trattandosi di uno strumento non rudimentale ma di uno strumento altamente sofisticato, basti pensare che fu utilizzato uno strumento non all'avanguardia come quello utilizzato da noi nel caso dell'omicidio Marta Russo. E i periti nel caso dell'omicidio Marta Russo lavorarono solo sulla ricostruzione, prevalentemente su questa ricostruzione in 3D. Noi l'abbiamo messo a disposizione, abbiamo messo a disposizione adesso del GIP ma oggettivamente anche della procura perché comunque l'abbiamo depositata agli atti uno strumento che consentirebbe veramente con ampio ritardo perché ovviamente quello che si è perso e perduto non possiamo più recuperarlo però sicuramente le misure su cui poter ricavare con un incrocio ovviamente anche con l'analisi del video avere la compatibile certezza se è caduto dal terzo e quarto piano su cui noi ancora oggi abbiamo e nutriamo forti dubbi è necessario. Quindi questa è un'integrazione che abbiamo chiesto e tra l'altro il dubbio che resta è noi abbiamo nelle scarpe di Davide c'era una sostanza bianca compatibile con probabilmente tinteggiatura, con un materiale che poteva anche essere di lavori di ristrutturazione fatto notorio anche questo per come è stato anche acquisito da stesso quarto grado fu detto fatto notorio e di pubblico dominio era che alla finestra dell'ufficio del quarto piano c'erano dei lavori in corso allora noi chiediamo che ulteriori accertamenti che furono fatti sul terzo piano magari possano essere fatti anche sul quarto piano magari all'esito di un accertamento più complesso analizzando e utilizzando il 3D Grazie all'avvocato Pirani e anche all'avvocato Goracci ovviamente Grazie a voi e grazie anche da parte del collega Goracci